Non si presenta nessuno, eppure dico, è possibile che non si trovi uno, dico, uno, uno. Buongiorno, siamo qui per l'annuncio. Ah, prego, prego, si accomodi. Grazie. Lei è il primo, anzi l'unico, tra noi proprietari di cani nudi cinesi con ciuffo, c'è una specie di intesa, prego, si accomodi. Grazie, guarda che Cicciopiccio è un cane nudo cinese con ciuffo di razza purissima. Purissima. Se vuole io le faccio vedere il pedigree, eh? No, ma non c'è bisogno, tra noi gentiluomini ci si fida, è inutile controllare il pedigree. Ma come non c'è bisogno, scusi, io a lei non la conosco personalmente, ma ci mancherebbe. Sì, ma basta guardare, basta guardare lui, come ha detto che si chiama? Cicciopiccio. Salutalo, salutalo. Salutalo. Bel nome, virile, maschio. Sì, sì, molto, molto. E' sicuro che si è in grado di... Cosa vuole insinuare, scusi? No, perché così conciato fa venire dei dubbi. Cicciopiccio, andiamo. Il signore ci ha offeso. No, 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 per carità, stavo dicendo che anzi guardandolo così conciato, uno dice questo è pronto per l'accoppiamento. Cicciopiccio, rimaniamo. Il signore si è scusato. Eh, certo che basta guardarlo, razza purissima, è cane, un udo cinese con ciuffo. Anche a me basterebbe guardare la sua cagnetta, lo sa? Guardare la mia cagnetta, lei. Certo. Eh, tutti vorremmo guardarla. E il fatto che riposa, hai capito? E mi dispiacerebbe disturbarla perché è molto... Ma a me riposa. Mi scusi, ma o guardiamo, vediamo la cagnetta e controlliamo il suo pedigree o qui non se ne fa niente, chiaro? Sì, ma cosa teme? Non vedo cosa... Ma non vorrei mica che io lasci il mio cicciopiccio tra le grinfie di una qualsiasi cagnolina in calore. Ma lei sta scherzando? Ma quale cagnolina in calore? Oh, eh, le ho detto che una cagna nudo cinese con ciuffo è doppio. Mi dispiace, non se ne parla. Se non la vediamo, noi non ci accoppiamo, ok? Non va, non vi accoppiate. Va beh, e allora facciamo una cosa. Adesso vado a svegliarla con tutte le cautela del caso perché sta acquistando la cagnetta veramente sensibilizzata. E poi mi aspetti qui, la porto qui subito. Anche cicciopiccio l'aspetta, eh? Sì. Anche cicciopiccio l'aspetta, eh?